Musica Eeeh, belotti ragazzi, noi siamo l'I27i, io sono Isamo2700 ed eccoci oggi ragazzi in un nuovo video Oggi siamo su Fortnite in un video abbastanza vecchio Siccome era una partita di Fortnite che ho registrato ancora l'1 novembre 2017 Ma siccome era una partita molto molto carina dove abbiamo vinto in un modo veramente veramente strano Ho deciso comunque di portarvi questa partita anche se è passato veramente veramente tanto tempo Infatti se vedete ci sono i vecchi comandi tipo per cambiare le armi Adesso si cambiano con L1 e R1 se non sbaglio E prima invece si cambiavano con triangolo Infatti potete vedere anche le armi sono quelle vecchie E tra l'altro abbiamo fatto una partita a squadre e siamo atterrati a Fatal Field Spero che si pronunci così Che era quel vecchio territorio della vecchia mappa dove c'erano diciamo le fattorie Siamo atterrati là, abbiamo preso le armi, abbiamo incontrato un gruppo di persone, le abbiamo uccise Infatti da qua in poi vedete la registrazione Era morto tra l'altro Picci e un altro giocatore Era un giocatore casuale, avevo appuntato subito E siamo rimasti solo io e Manuel Beh ragazzi non mi prolungo tanto nella intro e vi lascio direttamente al video Oro sì il cecchino Però è semi-automatico È semi-automatico Figa per prendere le bende Eh infatti le prendo Per il M4 blu Manu prendi il fucile pompa blu se non ce l'hai già Creiamoci tipo una barricata Una base qua al centro Andiamo su te, no andiamo là sopra Manu Guardami Cazzo pochissimi colpi aspetta Andiamo là sopra Ascoltami seguimi Eh questa gente va bene Non è un cecchino quello Manu Non è un cecchino quello lì per terra Manu seguimi veloce prima che cadi se no dopo Corri Manu Arrivo il kill Figlio solo tre colpi del cecchino Veloce Manu muoviti veramente Perché hai sparato? Manu veloce Oh Ivan dentro Salta salta Veloce 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 Sei ferito? Serve un altro kill medico? Ho paura Ma chi è di tosto? Oh vedo Ho visto Tieni da un kill medico Manu Tieni Sono giù sotto di noi Sono comunque Ivan butta giù le scale È vero cazzo le scale Vabbè Occhio dietro Manu che c'è nella barricata Ok è giù le scale sono giù Lo sto costruendo io Sto costruendo io Ah Dice molto che guardate Hai corrigisando Ivan Sì ne ho però aspettate facciamo prima la barricata Eh dai le manu Ivan sta sparando Ivan No 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 poi No 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 ma non sto sparando poi Dai Manu facciamo la La torre Occhio 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 Tuve lo vuoi qua? Una ho fatto io Una ho fatto io La vedo uno Due No è morto morto Virbola kill No è mancato non ci crede Dai dico il più pesante Ivan Che ne ha bisogno Aspetta fatemi Non uccido io Pezzo di cacca Ma che cechino di merda è? Non uccide Non uccide Fatemi questo Io non mi colpo più cazzo Vieni qua Vieni sopra Ma non è un cechino normale Con il secolo si mette Ma Eh Per ben detto Non è un fucile d'assalto quello Ho 78 colpi di cecchino Oh siete in sette Figura che base sto costruendo io Dietro l'albero Manu È quel che sta puntando Come la terra Ivan mi ha buttato giù le scale Sì sì Ho basta fare 40 piani Anche ogni volta Ho finito il materiale Manu metti roba in ferro Se c'è Siamo a culo a sezzo Manu sono rimasti in due nemici Comunque No non siete in sezzo Cazzo Spera Manu Ho un'idea Oggi è più nuovo Ho un'idea rischiosissima Però ci vuole provare Vai Ma è bravo Hai in onest Vaffanculo Se mori tu muoio Non muoio Ciao sei bisognina Come c'è bella Trovala Spero stiamo sparando Manu sono rimasti in due nemici Comunque Io le fa Le ho matto tutti Uoooo Cazzo Dai scemo Sto riparando Manu attento Sì Ma cazzo sono Porca Ho stra paura Ho stra paura giuro Vabbè avete 35 secondi di save zone Manu va in pieno so Ma siamo in save zone noi Siamo in save zone No Sì 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 Guarda come cosa fa Sparalo Manu Eh non riesco Mi rianto polento Basta che non la lancia razzi Se no siamo veramente No è lancia razzi Lancia razzi Lancia razzi Scappa Lancia razzi Facciamo il piano di sopra Facciamo il piano di sopra Facciamo il piano di sopra Manu costruisci Veloce Hai ferro Manu Sì Droppami il ferro velocemente Ok bella Manu Vai continua la nostra Bari sì Guarda che questa costruzione è meglio Siete in quattro e c'è In quattro Eh da prima che siamo in quattro Siamo messi solo due tizi da un'ora Eh però Ivan così un po' Manu non andare con penne in costruzione Manu attento scappa Eh te l'ho detto perché ha poca vita Spesso ci provo E' a me 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 Per riparare Ivan Spesso Spesso E' a me Sono sotto di Ivan Manu sotto Un costruito Eh ma non li vedo Eh perché sono dentro Lo vedi Sto facendo Non li vedo col cichino Sto facendo due strati di pavimento Per emergenza comunque Che fai? Devo mirarli Mi sono fatto il buchetto apposta Noi il buchetto Guarda Oddio raga Io sfollo Oddio Oh se cadete Vedete di riuscire ad andare addosso la montagna Che scivolate giù e non prendete danno Cioè se no mai prendete la fine Però si vede su qua Fatti i buchi nel pavimento No ma no 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 ma non fai così mori Ivan li vedo Però ci sei messo sticato i copi Mi vedo scemo Cosa sono di Le granate eh Probabilmente Oh 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 Attenti l'RPG Manu Manu Fai le scale Vieni attento La save zone H-boy No Non senso Manu fai le scale Oddio le scale Mi merda Eh se c'è Ma dove sono loro raga So sotto Li vedo li vedo Aspetta forse riesco a prenderlo Guarda un pc No Ivan Cazzo Dalla riesci a prenderli Manu ATTENTA MANUAL MANUAL Oh vado a culo Mi sto cadendo in mano Siamo nella merda Manu siamo nella merda No Ivan non puoi salire dopo Non puoi più salire Certo che posso salire Eh gli do Ah vabbè Cos'è Mi sottovalutano troppo loro Sai cosa devi fare Ivan Come pro Che tipo Guarda come cazzo piccola la save zone Io muoio raga Avete Avete KIT magici O BENDE voi Resistite fino alla fine Sì o BENDE Resistite fino alla fine Così almeno potete curarvi No Manu Sai cosa fai Quando la save zone scompare Del tutto Voi due rimanete Tipo nel punto più in alto E poi continuate a curare Con BENDE Raga così Io continuo a riparare tutto Vaffanculo Guarda 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 Sono piccolo Ivan mi fai la mia estrella Eh siamo sotto No no Oh Manu preparati le bende Continui a curarti È inutile spararvi Perché se loro tipo Non hanno bende così Raga Cioè Assurdo Ma hai visto una roba del genere Oddio Muoio Manu pronto Ivan fammi un buchetto Attento eh Oh Manu No 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 facciamo più i buchetti Vaffanculo Dai fammi sto cazzo di buchetto Sparate verso le fessure Sparate verso le fessure Manu Sparate verso le fessure Non riesce a sperare verso le fessure Non riesce Sì sì si può Porca viva Dio Sto iniziando a finire i materiali No i materiali Hai le pietre Hai la pietra? Sì Tieni cazzo Troppala Troppala veloce Tieni 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 Madonna raga Io mi tengo il fuggile a pompa se cado Tieni 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 Non ti filasse il zone No Ma non sei pronto Continuate a curarvi Continuate a curarvi in questo momento È stato Guardate Oddio 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 Era piccolissima e ci può stare una sola persona Vi dico No Quindi Intigate C'è mano Non ti filasse Continuate a curarvi Continuate a curarvi No Curati Manu Curati Curati Manu Curati Non ti filasse Quanto toglie Quanto toglie No Sono a terra No Questo è video Questo è video Questo è video Questo è video Raga Questo è video Primi Vittoria Reale No È la management Todo è Lo Vargo È il Ciao!